Il loro profilo sensorio Le Nouri attraverso Pietro Ubaldi, 1886-1972 Allora lentamente alla percezione sensoria del mondo si sostituisce una diversa percezione interiore, animica, che tutto sente diversamente. Le armonie musicali dell'orecchio si trasformano nelle più profonde armonie dei concetti. Musica sommessa tutto intorno silenzio, luci blande in tono minore, tutto intorno tenebre. La mia anima è una fiamma che arde nella notte. La sua luce e il suo canto soli io ascolto, ed essi solgono mentre così si addormenta la mia coscienza del giorno. Lentamente le cose perdono il loro profilo sensorio, e io vedo vibrarne lo spirito, odo cantarne la voce. La mia coscienza si assopisce all'esterno. Il mio io muore alle cose del giorno, ma rinasce in una realtà più profonda. Il mio io muore alle cose del giorno, ma rinasce in una realtà più profonda.